Ciao, bentornato sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Questo video lo dedichiamo a Windows 10 e parliamo di quello che accade dopo aver fatto l'aggiornamento al nostro computer. Noi abbiamo recentemente, in un video precedente, aggiornato un computer a Windows 10. Io l'ho fatto su questo computer che è diverso rispetto a quello del video precedente. Questo è un altro computer con uno schermo diverso, ma ho appena effettuato l'aggiornamento. Che cosa succede subito dopo aver fatto l'aggiornamento? Ci sono alcuni lavoretti che possiamo voler fare per adottare il nostro computer alle nostre preferenze. Quindi appena messo Windows 10 ci sono dei cambiamenti, ci sono alcune cose che desidero voler sistemare. Allora, in primis, come prima cosa, mi sono accorto che il mio computer è in lingua inglese ora. Prima era in lingua italiana, l'ho aggiornato e adesso il mio Windows è in inglese. Lo vedo perché qui c'è scritto in inglese. Lo vedo che quando vado a fare clic qua sopra la barra di avvio, sopra il menu di avvio, scusami, trovo tutti i comandi in inglese, setting, power, all apps. Quindi decido intanto come prima cosa di impostare il mio computer per la lingua italiana. Come si fa a regolare la lingua nel computer in Windows 10? Devo andare su setting, quindi parto da zero. Vado su il menu di avvio, scelgo setting, che sarebbe poi impostazioni nella lingua italiana, ma adesso il computer è in inglese, quindi mi trovo a dover schiacciare setting. Vado su setting e quindi tutti i comandi che ho li vedo in inglese. Questa è la schermata del vecchio pannello di controllo dei Windows precedenti. E qui dove c'è time e language, quindi tempo e linguaggio, vado a premere. Mi posiziono sulla regione e lingua e vedo che l'Italia è correttamente configurata, c'è italiano. Qui mi dice che sì, c'è la lingua italiana, ma c'è anche la lingua inglese, come Windows, quindi lingua inglese dell'America, tra l'altro americana. E qui volendo potrei aggiungere altre lingue, quindi far sì che il mio Windows mi si presenti in una lingua differente. Quindi questa schermata è utile anche se io voglio cambiare la lingua del mio Windows. Però io adesso voglio passare all'italiano e ho già fatto varie prove in altre, in alcune circostanze con altri computer che via via ho aggiornato con Windows 10 e mi sono detto che la soluzione migliore è quella di rimuovere, quindi ho scelto la lingua inglese e di rimuovere la lingua inglese. Altrimenti potrei dire voglio la lingua italiana e dammela come predefinita, però ad esempio qua set as default che sarebbe dammela come predefinita non mi funziona. Anche quando riesco alcune volte poi il computer una volta che si è spento e riacceso mi torna in inglese. Quindi io siccome lo voglio in italiano senza avere la possibilità di scegliere una lingua o l'altra perché voglio l'italiano, l'inglese lo rimuovo. Dico remove e adesso il mio computer ha rimosso la lingua inglese. Cosa succede però? Che quando chiudo mi ritrovo ancora tutto quanto in inglese. Per tornare, per avere l'italiano ho bisogno di spegnerlo e di riaccenderlo, di disconnetterlo e riconnetterlo. Quindi in pratica lo spegniamo, lo riaccendiamo e dovremmo ritrovarci in lingua italiana. Ora metto in pausa il video, faccio l'operazione perché chiaramente non può registrarmi intanto che spengo e riaccendo e ci rivediamo subito dopo. Eccomi qua, il mio computer si è riacceso e adesso è in lingua italiana. Qui infatti c'è scritto in italiano, sono cortana, scusami, chiedimi qualcosa. E qui sono apparse adesso le voci in italiano, quindi non c'è più setting ma c'è impostazioni e tutto quanto in italiano. Bene, quindi abbiamo risolto il problema della lingua. Un'altra cosa che faccio subito, di solito quando installo un Windows 10 su un computer, è quella di impostare un browser preferenziale. Allora il browser dicevamo che è il programma che ci permette di navigare in internet, quindi nel nostro caso io ho sempre fatto vedere Google Chrome perché mi piace utilizzare quello per navigare in internet. E quindi il mio computer prima utilizzava Google Chrome come browser predefinito, come browser principale della navigazione del mio computer. Dopo l'aggiornamento a Windows 10, Windows imposta invece come browser principale un altro, Edge. Questa e blu qui è un browser internet, se io lo apro adesso mi caricherà qualche cosa, eccolo qua, fornito da Microsoft. Quindi questo è il browser di Microsoft. Prima si chiamava Internet Explorer, era la E, era come Explorer, ora l'hanno modificato, aggiornato insieme a Windows 10 e si chiama Edge, quindi E come Edge. E viene impostato come predefinito. Bene, pur essendo un buon browser, io voglio continuare ad utilizzare come browser predefinito il mio Chrome perché mi trovo bene. Quindi chiudo con la X, qui gli dico di chiudere tutto, ok. E voglio impostare Chrome. Chrome, Firefox, Safari, ognuno può utilizzare il browser che preferisce. Come si fa a regolare queste impostazioni? Adesso in Windows 10 si va qui. Menù di avvio, impostazioni, che è dicevamo il nostro nuovo pannello di controllo. Vado qui dove c'è sistema, schermo, notifiche, app, alimentazione, quindi in questa schermata generale. Premo. E qui vado su, dunque vado su, app e funzionalità, mi pare che non sia quello, c'erano, app predefinite, eccolo qui, app predefinite. Quindi qui si vanno a scegliere quelle che sono le applicazioni predefinite per effettuare alcune operazioni. Allora, ad esempio, facendo scorrere, quindi sto facendo girare la rotella, trovo che il browser web, quindi il programma che serve per navigare in internet, è Microsoft Edge, che a me non sta bene. Quindi clicco e vado a scegliermi Google Chrome. Google Chrome mi esce perché nel mio computer era già installato precedentemente, quindi Google Chrome c'era già prima dell'aggiornamento. Se non ci fosse stato, dovrei aggiungerlo in questo momento. E comunque, una volta che l'ho aggiunto, quindi una volta che ho aggiunto Google Chrome nel mio computer, c'è un video apposta che parla dell'installazione di Windows Chrome, quindi tempo fa abbiamo fatto un video apposta che parla di come installare Google Chrome, quello vale ancora, anche se adesso stiamo lavorando su Windows 10, vale ancora. Cercherò di metterti qua in alto, in questa posizione, la classica I che ti rimanda a quel video se hai bisogno di vedere di nuovo queste funzioni. Però una volta che è installato, quindi una volta che sul mio computer c'è questo Google Chrome, subito dopo aver messo Windows, mi ritrovo che non è più il programma preferito del mio Windows, quindi devo venire qua e sceglierlo, quindi Google Chrome, quindi devo fare questa operazione, quindi sono andato sul menu di avvio, la ripetiamo così la vediamo insieme, sono andato sul menu di avvio, impostazioni, sistema, app predefinite, ho fatto girare la rotella e qui ho scelto, ho schiacciato dove c'era browser web, prima c'era Edge, ho premuto e tra i browser disponibili c'era anche Chrome, ho scelto Chrome e quindi ho impostato adesso Google Chrome come mio browser preferito. Ed eccolo qua. Un'altra cosa che mi piacerebbe avere è l'icona di questo browser qua sotto, vicino a queste icone che sono diciamo le mie preferite. questo è una cosa semplice, la prendo e la trascino, la metto qua vicino, lì e adesso ho il mio browser anche qui. Quindi premo su Google Chrome e adesso mi si apre il mio browser Chrome e quindi sono pronto per navigare in internet. Bene, lo chiudo. Se di queste icone desidero toglierne qualcuna perché non mi piace, non mi piace più, non la voglio più, posso sempre col tasto destro del mouse, qui c'è rimuovi dalla barra delle applicazioni. Allora provo, tasto destro, rimuovi dalla barra delle applicazioni. Ed ecco che questa icona è sparita. Bene, ora però ho eliminato, ho rimosso dalla barra delle applicazioni Edge. Se mi venisse voglia di utilizzarlo, dove lo trovo? Dove vado a riprenderlo per poterlo utilizzare? Lo trovo qua. Menù di avvio, tutte le app, quindi tutte le applicazioni installate nel mio computer sono anche elencate in questo elenco in ordine alfabetico, per cui se io vado alla E dovrei trovare il mio Edge. L'ho già saltato? Allora no, non lo trovo. Vediamo se è sotto qualche altra voce. Eccolo qua. Sotto Microsoft Edge, perché il nome era esteso Microsoft Edge. Quindi se io premo qui sopra, si aprirà nuovamente Microsoft Edge. Quindi posso andare, ora lo richiudo, posso andare a lanciare le applicazioni che non ho sul desktop, che non ho sulla barra delle applicazioni, da questa funzione qui nel menu di avvio. Quindi menu di avvio, tutte le app, eccolo qua, e qui cercare l'applicazione che mi interessa. E qui avevamo detto Microsoft Edge. Se volessi averlo di nuovo fuori, questa icona mi dico, ah mi sono un po' pentito di averla eliminata dalla barra delle applicazioni, perché tutto sommato, visto che la uso, posso recuperare, recuperarla, o comunque anche se fosse ad esempio il meteo, mi piacerebbe vedere il meteo, avercelo più comodo, col tasto destro del mouse, vediamo altro, aggiungi alla barra delle applicazioni. Ed ecco qui che adesso ho messo l'icona del meteo sulla barra delle applicazioni, per cui se voglio vedere che tempo fa, posso schiacciare sul meteo e poi utilizzare questa app che io adesso non voglio approfondire. Qui c'è da dirgli, siccome è nuovo, il computer è appena stato installato, c'è da dirgli se voglio in gradi centigradi, in Fahrenheit, in quale città, quindi una serie di personalizzazioni che in questo momento non voglio affrontare, quindi chiudo. Tiro via di nuovo questa icona qui che non voglio più. Allora, tasto destro, rimuovi dalla barra delle applicazioni, ha semplicemente cancellato l'icona, ma il programma, la funzionalità è rimasta qui dentro il menu di avvio, tutte le app e qui in ordine alfabetico ci sono tutte le applicazioni installate nel mio computer e dunque, parlavamo di Microsoft Edge prima Microsoft Edge, quindi se io volessi l'icona fuori, abbiamo visto che premo col tasto destro provo di nuovo, tasto destro, ecco, non sulla sulla, sull'icona ma sulla scritta altro aggiungi alla barra delle applicazioni e quindi mi apparirebbe mi apparirebbe qui, lo faccio ed ecco qui Microsoft Edge mi è apparsa nell'ultima posizione perché era la prima ultima posizione ma prima posizione disponibile se volessi spostarla immagino di poterla tenere premuta e spostarla, no, non me lo fa fare avrei detto che sia, ecco, ho preso male la posso comunque trascinare e spostare dove mi fa più piacere un'altra cosa volevo provare se questo Microsoft Edge dove siamo? eccolo qua invece che metterlo sulla barra sulla barra dell'applicazione lo volessi sul desktop proviamo a trascinarlo vado sulla E di Microsoft Edge trascino ed eccolo qua eccolo qua Microsoft Edge è sul mio desktop là dentro nel menu di avvio tutte le applicazioni è comunque rimasto perlomeno io vorrei che fosse rimasto eccolo qui Microsoft Edge perché questo elenco non lo vorrei mai modificare perché qui trovo tutto quindi quando mi serve qualcosa lo vado a prendere lì perché in questo elenco c'è tutto però abbiamo visto che se mi serve anche un'icona fuori la posso prendere facciamolo col Meteo stavolta lo posso prendere e trascinare in una posizione fuori quindi adesso ho l'icona sul desktop oppure abbiamo visto che mentre sono là allora tutte le applicazioni posso lo rifaccio col Meteo tasto destro sulla scritta altro aggiungi alla barra delle applicazioni ed ecco qui che ho preso la app del Meteo io consiglio qui di averne poche perché questo spazio comunque è uno spazio informativo che mi serve a sapere che cosa sto facendo fare al computer quindi poche applicazioni proprio quelle fondamentali quindi di nuovo tasto destro rimuovo dalla barra delle applicazioni anche questa rimuovo dalla barra delle applicazioni e Edge rimuovo dalla barra delle applicazioni questi due qua di Microsoft Edge e Meteo che non mi interessano in questo momento li prendo e li trascino nel cestino prendo e trascino nel cestino in modo da avere poche icone adesso queste sono veramente poche ma le icone sul desktop o sulla barra delle applicazioni secondo me dovrebbero essere poche quelle che usi praticamente tutti i giorni quelle che usi con maggior frequenza tutte le altre vado nel menu di avvio tutte le app e le cerco in ordine alfabetico bene per oggi ci fermiamo qui però faremo altri video parleremo ancora di Windows 10 perché ci sono ancora delle cose che ci torneranno utili per personalizzare il nostro computer ti ringrazio per la visione mi auguro che ti sia piaciuto quindi eventualmente metti un mi piace condividilo iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto perché per noi è molto importante e ti do appuntamento al prossimo video dell'Associazione Maggiolina ciao buona giornata